Corso di diritto civile L'ordinamento giuridico L'ordinamento giuridico è costituito dall'insieme delle leggi e dei regolamenti vigenti in uno Stato in un determinato momento storico In uno Stato sono in vigore diversi ordinamenti giuridici L'ordinamento statale L'ordinamento internazionale L'ordinamento comunitario L'ordinamento dello Stato Vaticano L'ordinamento della Regione L'ordinamento della Provincia L'ordinamento del Comune L'ordinamento militare L'ordinamento sportivo Ed eventuali altri ordinamenti I diversi ordinamenti giuridici coesistono e regolano Soltanto la materia di cui trattano L'ordinamento statale Prevale sugli altri ordinamenti A condizione che non sia disposto Altrimenti Da una norma di grado superiore Come la norma costituzionale Oppure dai trattati europei o internazionali Iniziamo ad esaminare l'ordinamento statale L'ordinamento statale è costituito innanzitutto dalla Costituzione La quale occupa il primo posto nella gerarchia delle fondi del diritto Al secondo posto abbiamo i regolamenti comunitari Al terzo posto i regolamenti italiani Ed infine segue la consuetudine e gli usi La Costituzione italiana è entrata in vigore il primo gennaio 1948 E costituisce la legge fondamentale della Repubblica italiana La Costituzione italiana è così formata I primi dodici articoli trattano dei principi fondamentali Segue la prima parte intitolata Diritti e doveri dei cittadini E dalla seconda parte che tratta Dell'ordinamento della Repubblica I principi fondamentali sono descritti nei primi articoli E sono i seguenti Articolo 1 L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro La sovranità appartiene al popolo Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo Sia come singolo Sia nelle formazioni sociali Ove si svolge la sua personalità L'articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale E sono uguali davanti alla legge Senza distinzione di sesso Di razza Di lingua Di religione Di opinioni politiche Di condizioni personali e sociali L'articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini Il diritto al lavoro E promuove le condizioni Che rendano effettivo questo diritto L'articolo 5 La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali Articolo 6 La Repubblica tutela le minoranze linguistiche Articolo 7 Lo Stato e la Chiesa Cattolica Sono ciascuno nel proprio ordine Indipendenti e sovrani I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi Articolo 8 Tutte le confessioni religiose Sono ugualmente libere davanti alla legge I loro rapporti con lo Stato Sono regolati per legge Sulla base di intese Con le relative rappresentanze Articolo 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura E la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione Articolo 10 L'ordenamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute Articolo 11 L'Italia reputi alla guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli E come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali L'articolo 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano Verde, bianco e rosso Ha tre bande verticali di uguali dimensioni La prima parte della Costituzione tratta dei diritti e doveri dei cittadini Eseminiamo alcuni articoli In particolare l'articolo 13 Afferma che la libertà personale è inviolabile E non è ammessa forma alcuna di detenzione Se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria L'articolo 14 afferma che il domicilio è inviolabile Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni Se non nei casi e modi stabiliti dalla legge L'articolo 15 Afferma che la libertà e la segretezza della corrispondenza E di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili L'articolo 19 afferma che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa L'articolo 20 afferma che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero Con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione L'articolo 27 afferma che la responsabilità penale è personale L'articolo 33 afferma che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento La seconda parte della Costituzione tratta dell'ordinamento della Repubblica In particolare della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Della formazione delle leggi Del Presidente della Repubblica Del Governo Della pubblica amministrazione Della magistratura Delle regioni Delle province E dei comuni Infine la Costituzione tratta Della Corte Costituzionale Nell'ordinamento giuridico italiano I regolamenti europei Prevalgono sulle leggi e sui regolamenti italiani Le leggi prevalgono sui regolamenti italiani I regolamenti italiani sono subordinati alla legge E vengono emanati dalla pubblica amministrazione L'ordinamento internazionale L'ordinamento internazionale promana dai trattati e dagli accordi raggiunti con gli stati extra comunitari L'ordinamento comunitario è vingolante per gli stati aderenti I regolamenti europei sono direttamente vingolanti E prevalgono nella gerarchia delle fondi del diritto Sulle leggi dei singoli stati Le direttive europee invece Per essere vingolanti Devono essere recepite in legge dagli stati aderenti all'Unione europea L'ordinamento dello Stato Vaticano è vingolante per lo Stato italiano In base al concordato tra la Santa Sete e l'Italia Nell'11 febbraio 1929 E dell'accordo con protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 L'ordinamento della Regione vincola soltanto gli appartenenti alla Regione e per le materie di propria competenza stabilite dalla Costituzione L'ordinamento della Provincia vincola gli appartenenti alla Provincia L'ordinamento del Comune vincola gli appartenenti al Comune L'ordinamento militare vincolante per i militari in tempo di pace e di guerra L'ordinamento sportivo vincola gli appartenenti alle società sportive Eventuali altri ordinamenti sono vincolanti per la materia trattata